Anni di clientele e di assistenzialismo, adesso il deserto per mancanza di risorse finanziarie. Il presidente di Union Camere, Ivan Lobello, sulla crisi irreversibile in Sicilia, Irene Milisenda. Per Ivan Lobello la Sicilia non cresce. Il vicepresidente di Confindustria e presidente di Union Camere dichiara La Sicilia e in gran parte del mezzogiorno vivono una stagione difficile. Non bisogna generalizzare perché anche qui esistono aree di eccellenza, piccole ma ci sono. Tuttavia è chiaro che il quadro generale non è confortante. Siamo alla resa dei conti di una lunga stagione di sprechi e di spese assistenziali. Per lunghi anni, mentre il nord investiva e creava ricchezza, il sud si dedicava a nutrire le clientele o a pagare forestali e lavoratori socialmente utili. Adesso le risorse sono finite ed è rimasto il deserto. Per Lobello bisogna ripartire da un profondo rinnovamento delle classi dirigente, non solo quella politica ma anche la burocrazia che ormai è diventata una zavorra. Il cambiamento non si può fermare nemmeno sulla soglia del sindacato e del mondo delle imprese. Non tutte le imprese competono sul mercato libero, preferendo invece le protezioni pubbliche e non tutte le imprese hanno comportamenti trasparenti. Bisogna mettere in moto la macchina dello sviluppo, partendo dal lavoro e valorizzando la componente migliore del mondo imprenditoriale. Il modello parassitario va abbandonato, non ha portato sviluppo a mo' povertà, sottolinea Lobello, che lancia poi l'allarme sull'impoverimento del capitale, ma non di quello economico, bensì di quello umano. Nell'università c'è un calo delle iscrizioni spaventoso, i ragazzi migliori scappano e chi resta non sempre interessato alla costruzione di percorsi professionali d'eccellenza. Una questione pregiudiziale alle questioni dello sviluppo e della crescita civile.